Ben tornato Goodler, ben tornata Da questa lezione iniziamo a vedere un aggiornamento al sistema operativo Windows 8 che può essere trasformato in Windows 8.1 Che cos'è 8.1? E' l'aggiornamento gratuito di Windows 8 Il sistema operativo Windows 8.1 è stato rilasciato il 17 ottobre 2013 e quest'anno Windows 8.1 ha subito un aggiornamento che è denominato Update che poi tra l'altro equivale ai vari service pack delle precedenti versioni dei sistemi operativi della Microsoft Puoi aggiornare Windows 8 a Windows 8.1 in diverso modo Naturalmente se sul tuo PC hai installato Windows 8 lo potrai scaricare gratuitamente dal Windows Store dopo aver realizzato l'accesso al sistema operativo come già sai tramite l'account Microsoft Se invece hai installato un sistema operativo antecedente dovrai però acquistarlo o tramite un supporto oppure online La procedura online è stata semplificata grazie all'impiego di un assistente software che seguendoti in un processo guidato ti accompagnerà passo passo nelle fasi di acquisto, scaricamento ed installazioni di Windows 8.1 Come esegui questo aggiornamento? Naturalmente io do per scontato che il tuo computer possa supportare tale aggiornamento i cui requisiti li puoi trovare sul sito della Microsoft e qui rappresentati in maniera molto semplice tramite questo screenshot Supponiamo che tu abbia 7 Naturalmente per installarlo e aggiornarlo come detto dovrai acquistarlo Nel tutorial del sito della Microsoft trovi evidenziate le informazioni a riguardo Per installarlo da disco ripercorrerai le fasi descritte nella lezione 133 e guardando anche il rispettivo video tutorial Le fasi saranno quasi totalmente identiche Invece il processo di aggiornamento può avvenire anche totalmente online oltre che da supporto e naturalmente è consigliabile eseguire questo processo grazie appunto al software che ti guiderà completamente nelle azioni da seguire La condizione è simile a quello mostrato nella lezione 132 per cui in parte troverai le stesse schermate Scarica innanzitutto l'assistente per installazione e dal termine clicca rapidamente due volte sull'eseguibile per avviare la procedura Si presenterà a te questa schermata che durerà qualche secondo Il sistema infatti inizierà a verificare subito dopo la compatibilità dell'hardware e il software installato sul tuo computer per ricevere l'aggiornamento a 8.1 Terminata questa fase ti fornirà i risultati che potrai evidenziare Potrai visionare tutti i dettagli e soprattutto qualora ci fosse qualche incompatibilità rilevata potrai in questo modo porvi rimedio Andando avanti nella procedura il sistema si connetterà al server della Microsoft e ti verrà mostrata la schermata in cui potrai decidere se mantenere i tuoi file personali oppure eseguire un'installazione pulita la quale naturalmente prevede la formattazione del disco rigido o della partizione dove è già installato il precedente sistema operativo e nella quale installerai Windows 8.1 Optiamo naturalmente in questo caso per eseguire un'installazione pulita Questa è la rappresentazione di quel che vedrai rispetto a quanto appena detto Potrai decidere di mantenere i file personali oppure assolutamente nulla facendo un'installazione pulita Dopodiché clicca su Chiudi In seguito visionerai la lista dei sistemi operativi da acquistare In questa simulazione scelgo Windows 8.1 Professional e clicca sul pulsante Ordine Subito dopo ti verrà mostrato il ripilogo dell'ordine e potrai anche optare eventualmente per l'acquisto di un supporto DVD spuntando la casella relativa Al termine clicca su Completa transazione Ora dovrai compilare dei dati per la fatturazione quindi riempi tutti i campi necessari e dopo clicca su Avanti Se hai acquistato il DVD scegli il metodo di spedizione del servizio postale oppure Corriere in base a quello che sceglierai dopo clicca su Avanti Ora è il momento del pagamento Scegli se pagare con la carta di credito o tramite un account Paypal da un menu a tendina che si presenterà a te In caso di carta di credito dovrai compilare successivamente i dati richiesti e relativi alla carta di credito pagando invece con Paypal dovrai semplicemente cliccare su Avanti per portare avanti questa scelta Infine il riepilogo prima di confermare l'ordine al termine del quale potrai cliccare su Acquista Se avessi scelto di pagare tramite Paypal verrai a questo punto reindirizzato sul tuo account Naturalmente dovrai inserire le credenziali di accesso al tuo account Paypal per poter completare l'acquisto Alla richiesta di conferma andando avanti potrai portare a termine l'ordine il quale verrà elaborato A questo punto via mail riceverai la conferma del tuo acquisto e anche il Product Key per l'installazione che comunque potrai trovare anche sulla scatola del supporto se lo hai acquistato Ora potrai continuare con il processo di download del file digitale Tale processo potrà essere interrotto e ripreso anche dal punto in cui l'hai lasciato Terminato il download potrai avviare o rimandare se vorrai il processo di installazione oppure creare in quel momento anche il supporto per l'installazione Quindi come puoi vedere ampia scelta Seleziona Installa e clicca su Avanti per avviare immediatamente il processo di installazione oppure seleziona Crea il supporto di installazione oppure installa dal desktop in seguito Dopo la tua scelta clicca sul pulsante Avanti Se hai deciso di installarlo immediatamente a seconda a questo punto della procedura esegui che tutto fili per il verso giusto Verso la fine dell'installazione dovrai interagire un po' e infatti dovrai eseguire alcune impostazioni come la personalizzazione del colore dello sfondo della schermata a start e il nome che vorrai dare al tuo computer cose che hai già visto durante l'installazione precedente di Windows 8 al termine clicca pure su Avanti In seguito le impostazioni rapide o personalizzate come hai potuto imparare durante l'installazione appunto di Windows 8 e specificamente nella lezione 130T e rispettivo video tutorial Dopo scegli naturalmente il tipo di accesso al sistema operativo con l'accanto locale o Microsoft come ormai già ben sai Ecco la novità a questo punto introdotta con Windows 8.1 lo spazio di archiviazione gratuito online chiamato OneDrive un disco rigido come quello installato sul tuo PC ma online in questo caso potrai inviare i tuoi file direttamente dal tuo computer o dispositivo mobile ed aver sincronizzato tutti i dispositivi ecco qua la schermata che ti permette di eseguire la selezione o meno di acquisire questo spazio virtuale se deciderai per l'acquisizione clicca su Avanti altrimenti puoi disattivare lo spazio OneDrive cliccando sul pulsante relativo comunque queste impostazioni possono anche essere variate in seguito potrai sempre cambiare infatti la scelta tramite la sezione impostazioni PC del sistema operativo a questo punto sarà in dirittura d'arrivo dopo un po' potrai visionare la nuova schermata Start di Windows 8.1 e così potrai iniziare ad utilizzarlo prima però dovrai attivare il sistema operativo se l'hai acquistato puoi seguire benissimo la procedura spiegata nella lezione 134 e il rispettivo video tutorial per capire come funziona il tutto eccoci qua andiamo a vedere come aggiornare Windows 7 a Windows 8.1 seguendo l'assistente della Microsoft colleghiamoci alla pagina della Microsoft per andare appunto a scaricare l'assistente che ci seguirà passo passo poi durante l'aggiornamento ecco qui la sezione che ci interessa per poter cliccare sul collegamento e scaricare l'assistente all'aggiornamento dopo qualche secondo comparirà la finestra per eseguire il download clicchiamo su salva e aspettiamo il download dell'assistente della Microsoft una volta scaricato l'assistente clicca sopra due volte l'eseguibile e si avvierà la procedura ad una richiesta di conferma eventualmente fosse attivo questo controllo clicca su sì questa schermata durerà per un certo periodo di secondi al massimo pochissimi minuti dopodiché inizierà il controllo della compatibilità ecco qui ora l'inizio della verifica della compatibilità del software e hardware presente sulla tua macchina al termine il resoconto una volta ottenuti i risultati possiamo scendere nei dettagli per scoprire la compatibilità o eventuali incompatibilità software e hardware proseguiamo nel processo e andiamo ad ora a selezionare se vogliamo mantenere i dati personali oppure seguire un'installazione totalmente pulita e non salvare nulla optiamo proprio per quest'ultima selezione e andiamo avanti qui scegliamo il tipo di versione da dover acquistare se l'8.1 o l'8.1 professional in questa simulazione scegliamo 8.1 professional nella pagina successiva potremmo anche decidere di acquistare un supporto fisico DVD con ovviamente un incremento di costo a te la scelta se selezionare o no questo segno di spunta clicca su completa transazione e attendiamo qualche secondo per la successiva schermata ora è il momento di dover compilare alcuni dati per la fatturazione dell'acquisto dopo aver inserito i dati controllali e clicca su avanti per portare a termine la procedura naturalmente se hai acquistato anche il DVD scegli come ricevere questo DVD se via corriere oppure tramite posta ora è il momento di selezionare il tipo di pagamento se tramite carta di credito o tramite account Paypal in caso di carta di credito dovrai compilare i dati relativi alla carta di credito nel caso di Paypal sarà sufficiente selezionare e cliccare sul pulsante relativo per accedere al tuo account prima di completare il pagamento avrai il riepilogo dell'ordine che andrai ad evadere e al termine se tutto è corretto clicca su acquista in caso di pagamento tramite Paypal verrai reindirizzato sul sito di Paypal stesso e inserendo le credenziali per accedere al conto e confermando l'ordine sarà evaso e avrai acquistato la tua copia di Windows 8.1 ti verrà presentata la schermata per scaricare ed installare immediatamente l'aggiornamento oppure rimandare l'aggiornamento o anche eseguire una masterizzazione su supporto in caso di installazione immediata dovrai semplicemente assecondare il download e il processo di installazione che avverrà quasi del tutto in maniera automatica a parte piccoli tuoi interventi verso il termine dell'installazione prima della presentazione del desktop bene nella prossima lezione terminerò la descrizione per l'aggiornamento a Windows 8.1 ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima a